Ehi, testa spazzola, è un'ora che stai cullando quel gelato Cioè, mi stavo proprio chiedendo, chissà come fa una che lavora in una gelateria a mantenersi così in forma Ti ho giudicato male Ho detto passo pausa, giro pausa, farperno, passo passo Non passo pausa, giro pausa, farperno, passo pausa Ah, da brivido E la vincitrice è... Lisa Simpson Ok, asciugati la lacrima, abbraccia quella eliminata E ora la tua camminata trionfale sulla passerella Non c'è speranza Non ci vuole niente, dammi quei tacchi Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta Credi davvero che io posso vincere? Comincio a pensare che potrei vincere io Ma quelle altre ragazze sono più carine di me Lisa, come fratello questa è la cosa più difficile che abbia mai detto Tu non sei cozza Oh, papi Seguirò by Cartoon Park sulla tappa Giudici, lei è vostra reginetta A chi avete affidato il Jet Marley? E' il Jet Marley Mi chiamo Lisa Simpson e voglio diventare la piccola Miss Springfield Così potrà rendere migliore e così potrà rendere migliore la mamma Ehi, dai una ripulita a questa buca puzzolante Crusty, finalmente ce l'hai fatta Sì, sì, cos'è questa? La raccolta fondi repubblicana? Guardate la città! Guardate la città! Mi raffiniamo! Mi raffiniamo! Mi raffiniamo un bel sogno! La vostra Miss Springfield? Quale di queste, Sara? Via! Oh, quella tappa mi è rimasta sullo stomaco! Ehi, non avrò mai più quella ricetta! Oh, no! Quella non finiva più, eh! Ed ora ecco a voi... Lisa Simpson! Andranno pazzi per te proprio come per me! Grazie, papino! Alcune persone dicono che amare il proprio paese è una cosa all'antica È una rottura da mamma Beh, allora io dico America, America Grazie dell'opportunità Uno, due, sei, no! Grazie a voi, tessere, Springfield Conso su di voi per arrivare al sol Di proprio paese è una rottura da mamma Questa è la parte del concorso che preferisco perché... Che c'è scritto? Oh, mi dà un'occasione per conoscere le ragazze personalmente Personalmente Ehm, pensi che la dichiarazione dei diritti del cittadino sia una cosa buona o cattiva? Ehm... Fai con calma, cara Una cosa buona Ora è il momento di annunciare la seconda classificata Che se la vincitrice non porterà fermi nei propri doveri Blablabla, uzza, uzza, uzza E non dite, non succederà mai Perché ricordiamo tutti quella cosa che... Come si chiama? Clic, 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 hai capito? Ok, la seconda classificata è... Lisa Simpson E che significa che M.B.M.C. è la nuova cucola Bersi Springfield Tra poco, una nuova moda che sta invadendo la nazione Lo spreco del cibo E che significa che M.B.M.C. è la nuova cucola Bersi Springfield